Si sono chiusi questi due primi giorni di lavoro nell'ambito della Commission on Narcotic Drugs a Vienna, che implicherà una settimana di lavoro per ridisegnare le politiche globali sulle droghe. Questi due primi giorni sono stati dedicati al segmento ministeriale di alto livello, cioè un confronto tra i governi degli stati che aderiscono alle convenzioni internazionali sulle droghe e un percorso che si è concluso, anzi bisogna dire si è aperto con l'approvazione di una nuova risoluzione 2019 che sostituisce, ma in realtà rilancia quella del 2009. Dico si è aperto perché in realtà questa risoluzione era stata negoziata e contrattata prima che questo dibattito viennese avvenisse, quindi è stata votata in apertura. Questa risoluzione è deludente per tutti quei paesi e soprattutto per tutte le realtà delle associazioni della società civile che avevano sperato in un cambiamento un po' più significativo. In realtà non è cambiato l'obiettivo generale della dichiarazione del 2009 che perseguiva e continua a perseguire l'orizzonte di un mondo senza droghe, quindi l'eliminazione o comunque la significativa riduzione del consumo di sostanze e non è stato abbandonato un approccio che è molto concentrato sull'approccio sostanzialmente punitivo. Quindi sotto questo profilo viene da dire nulla di nuovo, nonostante quasi tutti gli interventi che si sono succeduti in questi due giorni, anche quelli che hanno fortemente appoggiato questa nuova dichiarazione, tutti gli interventi hanno sottolineato come in questi dieci anni gli obiettivi che la dichiarazione e il piano d'azione del 2009 si proponevano non sono stati raggiunti, sono state fornite cifre che forniscono l'evidenza di come sia sul piano del mercato che sul piano del consumo la situazione sia andata fortemente peggiorando. Nonostante questo è rimasto l'impianto della vecchia dichiarazione, del vecchio piano d'azione. Quello che invece non è accaduto è come dire a livello del dibattito tra i diversi stati e diversi governi non è accaduto che questo dibattito si sia chiuso, cioè se c'è stato un consenso alla fine sulla dichiarazione non c'è un consenso sulle diverse prospettive politiche. Quindi in questi due giorni abbiamo assistito alla ripresa di un dibattito a cui avevamo assistito già ad Angas nel 2016 con molte situazioni nazionali che stanno fortemente innovando le loro politiche nella direzione soprattutto della decriminalizzazione del consumo e delle condotte correlate al consumo e nella implementazione decisa di politiche di riduzione del danno e anche come sappiamo nella sperimentazione di politiche di regolazione legale dei mercati soprattutto per quanto riguarda la canapa. Quindi questo dibattito è fortemente aperto e il come dire anche se la dichiarazione approvata non ne rende sufficientemente conto. È interessante sottolineare un aspetto che è quello della posizione europea. Nei mesi che hanno preceduto questo appuntamento la Commissione europea aveva garantito di mantenere una propria posizione unitaria tra i diversi stati membri nonostante le differenze che esistono e che questa posizione unitaria avrebbe come dire tenuto ferma la posizione europea che è quella di un approccio bilanciato tra risposta punitiva e risposta invece legata a politiche sociali e sanitarie che questo approccio bilanciato è quello che caratterizza sostanzialmente l'Europa oltre a un accento molto forte sul rispetto dei diritti umani quindi sulla promozione di una politica sulle droghe che abbia i diritti umani come un suo perno fondamentale. Quindi questa posizione è stata mantenuta dall'Europa e ciò che è interessante è che tutti gli stati membri che sono intervenuti, stati membri europei che sono intervenuti dalla Lituania alla Francia, dall'Olanda all'Italia hanno sostanzialmente sottolineato e supportato questa posizione europea. A proposito dell'Italia va detto che il nostro paese è stato rappresentato dall'ambasciatrice a Cili perché nessun esponente governativo è stato presente in questo appuntamento globale e l'ambasciatrice a Cili devo dire che ha come gli altri paesi europei sostenuto la posizione della Commissione europea quindi in questo 2019 almeno non si è ripetuto ciò che era accaduto nel 2009 quando Giovanardi ruppe il fronte riformista europeo. Un ultimo aspetto importante ma in realtà non ultimo ma cruciale direi è che nonostante tutti i limiti della dichiarazione 2019 c'è un'affermazione esplicita molto chiara circa la flessibilità di ciò che la dichiarazione stessa e prima ancora le tre convenzioni sulle droghe stabiliscono. Flessibilità vuol dire, è scritto nella dichiarazione, che ogni Stato ha la libertà di riformare e innovare le proprie politiche se questo garantisce una maggior efficacia rispetto a quelle che sono i contesti locali. Quindi questo discorso della flessibilità delle convenzioni è forse uno degli aspetti più importanti di questa peraltro debole dichiarazione politica.